Si svolgeranno domenica 29 settembre le operazioni di voto per eleggere il nuovo consiglio provinciale. Trattandosi di elezioni di secondo livello, il corpo elettorale è formato dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 36 comuni del territorio provinciale Aretino. Dopo la riforma del Rio e la trasformazione delle province in organi di secondo livello, i cittadini infatti non sono più chiamati alle urne. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20 nell'unico seggio allestito nella sede della provincia e via Spallanzani 23 presso la sala riunioni al terzo piano. Tre le liste presentate comuni per la provincia, centrosinistra per Arezzo e patto civico intrateveretarno. Sono 12 i nomi nella lista centrosinistra per Arezzo. La capolista è una conferma rispetto al precedente mandato, ossia la consigliera comunale del partito democratico Valentina Vaccari. Nove invece i nomi della lista comuni per la provincia, solo due i confermati tra i consiglieri uscenti nella formazione presentata dal centrodestra. Il capolista è Simon Pietro Palazzo. Sette infine i componenti nella lista di patto civico intrateveretarno a cui ha lavorato Marco Donati, consigliere comunale di Scelguarezzo. La capolista in questo caso è la confermata Stella Scarnicci.